probabilmente anche a te è capitato in questi giorni di affacciarti alla finestra e di vedere in giro più gente di quanto non ci si possa o non ci si debba aspettare in questo momento allora magari questa cosa ti ha un po' irritato e quindi hai preferito chiudere la finestra tornare dentro casa e ti giri vedi che hai lasciato lì il cellulare su un tavolino lo guardi e nel frattempo è stato affacciato alla finestra dieci minuti sono arrivati duemila whatsapp e in questi duemila whatsapp molti ti raccontano di quanto sono aumentati i contagi di quanto è cresciuto il numero delle vittime insomma anche questa cosa un po' non ti lascia proprio di buon umore quindi decidi di mollare anche il telefono e magari di rilassarti un po' davanti alla tv ti guardi qualche notiziario qualche approfondimento che parla delle misure che il governo sta prendendo ha preso e questo non ti trova d'accordo non sei soddisfatto di come il governo si sta comportando in questa circostanza forse ritieni che avrebbe dovuto intervenire prima che dovrebbe fare delle cose diverse perché ti sto raccontando queste queste cose perché è un'esperienza penso abbastanza comune a qualcuno irrita di più un aspetto qualcuno da fastidio di più un altro però fondamentalmente molti di noi stanno avendo a che fare con queste informazioni fuori controllo non solo perché sono fuori controllo diciamo i media che forniscono queste informazioni ma anche perché effettivamente sono cose che sfuggono al nostro controllo e che quindi ci lasciano una sensazione di rabbia di frustrazione ora questo momento particolare che stiamo attraversando è di per sé abbastanza emblematico ed esemplificativo perché trattandosi di una cosa molto forte quella che stiamo vivendo fa venire fuori determinati schemi che in realtà sono degli schemi di comportamento tipici dell'essere umano indipendentemente dalle circostanze quindi ti parlo di questi esempi oggi uno perché sono di estrema attualità e due perché attraverso questi posso aiutarti a intravedere determinate dinamiche di comunicazione che noi abbiamo con noi stessi e con gli altri e imparare a gestirle ora in primo luogo perché è più importante più urgente soprattutto e poi anche in un futuro in circostanze più blande più serene ma comunque sempre che ripeto questo stesso tipo di dinamiche ora su questa metodologia che l'uomo applica per informarsi delle cose che accadono intorno a lui hanno scritto fior fior di professionisti in vari ambiti psicologi sociologi ma siccome io non sono esperta né di psicologia né di sociologia ma mi occupo di crescita personale oggi voglio approfondire il pensiero di un autore super noto stranoto nell'ambito della crescita personale ma anche al di fuori probabilmente l'autore di cui ti sto per parlare e il suo libro più importante più venduto più tradotto sono noti in realtà anche fuori dall'ambito della crescita personale ti tolgo subito la curiosità sto parlando delle sette regole per avere successo di Stephen Covey e questo è un libro che è proprio veramente un pilastro per chi opera nel mio settore come come formatore e chi è appassionato appunto di comunicazione e crescita personale io infatti l'ho letto la prima volta all'inizio della mia carriera circa 15 anni fa e molto spesso negli anni l'ho ripreso l'ho riletto magari a sfizzichi e bocconi ma c'è una cosa che devo dire la verità mi è rimasta impressa dalla prima volta che l'ho letta ed è quella che sto riprendendo adesso perché secondo me aiuta molto a capire come comportarci in questo frangente specifico e come ti dicevo anche nel futuro quando ritorneremo alla nostra vita normale per aiutarci ho creato delle rappresentazioni grafiche con quello che avevo in casa e vediamo un pochino quello di cui stavamo parlando prima quindi per esempio il comportamento degli altri cittadini che continuano ad uscire per la strada o del governo sono delle cose che stephen covey metterebbe all'interno della sfera di coinvolgimento cosa vuol dire sono delle cose appunto sulle quali io mi sento coinvolto soprattutto emotivamente e quindi ci mettiamo appunto il comportamento degli altri cittadini quello che fa il governo queste sono cose chiaramente che mi coinvolgono che mi riguardano ma sulle quali io effettivamente non ho più di tanto la possibilità di avere un impatto magari alla lunga con grandi azioni muovendo lobby o altre sfere di interesse però diciamo direttamente io personalmente non riesco cittadino comune chiaramente non riesco ad avere impatto su queste cose e ci posso aggiungere molte altre cose perché per esempio anche quello che fa o non fa l'unione europea gli altri stati membri dell'unione europea in generale l'andamento della salute pubblica la salute della mia famiglia già è un qualcosa su cui io posso influire impattare più direttamente ma che chiaramente dipende per esempio anche dal comportamento degli altri cittadini in questo momento lo vediamo anche nel male vediamo quanto effettivamente noi siamo collegati e connessi ovviamente anche la mia salute personale non solo quella della mia famiglia dipende un po' da quello che fanno gli altri intorno a me e poi ci sono sicuramente un'altra serie di cose che io vedo all'esterno e su cui non riesco ad avere un influsso diretto fra cui per esempio l'economia l'economia generale io per prima ho le mie preoccupazioni in quanto professionista partita IVA ovviamente il momento economico mi preoccupa e anche per chi non sia lavoratore autonomo magari ha un datore di lavoro e in questo momento io non posso più di tanto interferire con le sue decisioni con quello a cui sta pensando se fare licenziamenti o mettere in cassa integrazione ecco quando si dice è caduto il governo eccolo qui il governo effettivamente cade ma non nel senso giuridico del termine ok continuano a cadere anche gli altri cittadini ok ora queste sono le cose che in questo momento così una lista piccola di cose che in questo momento ci possono interessare coinvolgere Stephen Cove introduce però un altro argomento un'altra sfera e dice in particolare che la sfera di coinvolgimento contiene al suo interno una sfera di influenza che è più piccola ma che può essere anche allargata fino anche a raggiungere le dimensioni della sfera di coinvolgimento sono casi rari però potrebbe capitare questo ora delle cose che noi abbiamo detto prima per esempio la salute pubblica sicuramente continua continuiamo a mettere nella sfera di coinvolgimento però visto che prima avevamo detto anche la salute mia indubbiamente la mia salute rientra più nella mia sfera di influenza perché ho comunque io un impatto diretto su questa molto più forte di quello che hanno le cose nella sfera di coinvolgimento per quanto torno a dire siamo effettivamente connessi con gli altri l'unione europea dove la mettiamo la continuiamo a mettere nel coinvolgimento gli altri cittadini anche nel coinvolgimento però io per esempio potrei essere un influencer e quindi avere impatto su quello che fanno gli altri cittadini l'economia va nel coinvolgimento a meno che io non sia una persona che lavora nell'alta finanza e che può interferire il governo continua ad essere anche lui nella sfera di coinvolgimento e non in quella di influenza a meno che chiaramente io non sia al governo in questo momento la salute della mia famiglia la mettiamo comunque qui perché è una cosa su cui io ho un'influenza un impatto maggiore rispetto alle cose esterne e il mio datore di lavoro chiaramente dipende anche dalle dimensioni della mia dell'azienda per cui lavoro però mettiamo il caso che noi possiamo dialogare con il nostro datore di lavoro e avere impatto su quello che lui fa cosa dice steven covey a riguardo che è una questione di focus cioè quelle persone che si concentrano solo o soprattutto su quelle cose che sono all'esterno della loro sfera di influenza e quindi nel loro coinvolgimento sono le persone che lui chiama reattive che cosa vuol dire reattive vuol dire che reagiscono a stimoli che arrivano dall'esterno hanno soprattutto delle reazioni emotive e quindi agiscono poi di conseguenza in balia un po degli eventi è una cosa abbastanza normale spontanea naturale ma lui distingue queste persone da quelle proattive ovvero quelle persone che si concentrano soprattutto sulla propria sfera di influenza in questa sfera di influenza in realtà io adesso ho riposizionato le cose che avevamo detto prima ma nella nostra sfera di influenza ci sono molte moltissime cose come per esempio l'umore della mia famiglia non solo la salute ma io posso impattare visto che in questi giorni siamo chiusi dentro le stesse quattro mura certo che ho molta influenza sull'umore della mia famiglia allargandoci un pochino possiamo parlare dei rapporti di vicinato su cui io sicuramente ho abbastanza influenza l'opinione dei miei amici quelli con cui sto parlando al telefono quelli che continuo a vedere sui social media in questi giorni l'atmosfera con i colleghi che magari non sto vedendo in ufficio ma sto continuando a sentire e in generale il senso di solidarietà che io posso instillare nelle persone con cui sono in contatto tutte queste sono cose che rientrano nella mia sfera di influenza perché ho un impatto questo impatto però secondo steven covey può essere di due tipologie un impatto più indiretto e un impatto più diretto ed è per questo che io ho disegnato un altro un altro foglio dove ho messo anche la cosiddetta sfera di controllo nella sfera di controllo rientrano tutte quelle azioni singole che io posso fare per avere influenza intorno a me e conseguentemente anche allargare la sfera di influenza e avere un maggiore impatto sulla sfera di coinvolgimento quali possono essere queste azioni per esempio allora la mattina io decido di rimanere in pigiama tutto il giorno continuo a ciondolare per casa col pigiama sono io che decido se togliermi questo pigiama e mettermi un vestito sono io che durante il giorno decido se guardare la televisione o no e quali eventuali trasmissioni guardare sono io che decido se applicare le norme per quanto riguarda me le norme in questo momento del governo sono io che decido se nonostante siano chiuse tutte le palestre non si possa più andare al parco faccio attività fisica sono io che scelgo le fonti di informazione dalle quali andare a prendere appunto le notizie sono io che gestisco le mie emozioni sono io che punto la sveglia sempre alla stessa ora e non ciondolo a dormire fino a tardi solo perché non ho da lavorare in questo momento sono io che magari approfitto di questo periodo per elaborare una strategia che mi faccia essere più produttivo quando riprenderemo le nostre attività sono io che decido come e cosa comunicare alle persone intorno a me sono io che decido sostanzialmente come utilizzare il mio tempo sono io che decido se e quanto guardare i social media ok adesso le ho messe tutte un po così cosa vuol dire questo la sintesi di tutto questo lavoro di steven covey che non parla solo di questo nel nel libro di cui ti ho parlato delle sette regole per avere successo però questo è un concetto veramente fondamentale quello che lui dice è concentriamoci il più possibile sulle azioni che rientrano nella nostra diretta sfera di controllo perché attraverso quelle come quando getti il sasso in uno stagno si allargeranno delle onde che andranno ad impattare piano piano anche intorno a noi ora chi è un esempio illustre di questo di una persona che è partita con le proprie azioni è partita da sola facendo mente locale e facendo focus su quello che lui poteva fare uno degli esempi più illustri gandhi gandhi è partito come uomo mingerlino sicuramente acculturato era un avvocato eccetera ma da solo in teoria da solo ma partendo da sé ha cominciato a creare le basi per poi rendere indipendente l'india dalla gran bretagna e come l'ha fatto l'ha fatto lavorando su di sé lavorando sul suo modo di comunicare e creando un po per volta una massa critica intorno a sé è partito però solamente lui concentrandosi sulle sue azioni e sul modo in cui coinvolgere altre persone quindi creare influenza e alla fine la sua influenza è diventata così grande da capovolgere una situazione che era nella sua sfera di coinvolgimento e capovolgendo quella situazione ha cambiato il corso della storia ora è chiaro che io voglio risvegliare sicuramente il piccolo gandhi che c'è in ciascuno di noi ma prendere ad esempio no a modello una persona così illustre che ha fatto veramente una cosa così grande così mastodontica potrebbe in qualche modo non so frustrarci dire ma io non sono gandhi e anche io non sono gandhi ma in questo momento sto cercando di fare la mia parte e quindi per chiudere ti vorrei leggere un brano proprio un pezzetto del libro delle sette regole per avere successo che un po aiuta a ridimensionare questa questa sensazione no che uno dice vabbè ma io adesso mi ispiro a gandhi sì ispirandoci a gandhi ma facendo piccole cose nella nostra sfera di controllo sentite cosa dice steven covey ci sono moltissimi modi di lavorare nella sfera di influenza ascoltare meglio essere un compagno amorevole uno studente migliore essere un collaboratore più cooperativo e responsabile certe volte la cosa più proattiva che possiamo fare è essere felici semplicemente sorridere di cuore ecco questo è un po il messaggio che volevo mandare oggi facciamo i nostri piccoli passi capiamo quali sono le cose che sono sotto il nostro diretto controllo quelle sulle quali possiamo influire e quelle sulle quali possiamo sperare magari alla lunga di avere un impatto ma per le quali è inutile adesso preoccuparsi inutile focalizzarci su queste cose troppo lontane da noi partiamo dall'interno verso l'esterno come ci ha suggerito steven covey e partiamo magari anche semplicemente industriandoci per essere felici e per sorridere di cuore io ho cercato di dare questo imprinting anche a tutte le interviste che sto facendo in questi giorni qui su facebook interviste che vogliono rispondere alla domanda io cosa posso fare per stare meglio in questo momento e fare stare meglio le persone intorno a me ecco queste sono le domande che si fanno le persone proattive le persone invece reattive dicono ma io che ci posso fare se il governo non fa quello che dovrebbe l'unione europea eccetera eccetera invece di continuare a chiederci io cosa ci posso fare se e quindi rimanere concentrati sulla sfera di coinvolgimento continuiamo a chiederci io cosa posso fare per concentrando la nostra attenzione sulla nostra sfera di controllo ti ringrazio di avermi ascoltato spero di esserti stata utile e ci vediamo alla prossima ciao ciao